Ho lavorato in un sottomarino per quasi trent'anni. Ho perso la mia famiglia per questo lavoro. Non posso farci niente. Siete licenziati. Io non lo accetto. C'è un modo per fare soldi. Ci servi tu, uno come te, Robinson. L'anno scorso ero in missione nel Mar Nero. Abbiamo trovato qualcosa. Uno dei sommergibili di Hitler. È sul fondale. Abbandonato. Ed è pieno d'oro. Mi servono uomini. Metà inglesi, metà russi. Reynolds. Peters. Tobin. Ma è un ragazzino. Fraser. Lui non è gestibile. Lo so, ma è il miglior sommozzatore che esista. Di quanto oro parliamo? Tanto. 182 milioni di dollari. Parti uguali. Per ciascuno. Che stai cercando? Le finestre. Non ci sono finestre. È la scopa che ti serve. Non c'è nemmeno il cammino, vero? No, niente cammino. Capo, siamo pronti. Inversione! Non mi sta bene che loro prendano quanto noi. Sua ragazza è incinta. Non preoccuparti. Torni a casa da uomo ricco. Lì è tutto buio, freddo, morto. E che succede quando il primo capisce che la sua parte diventa più grande? Se sono in meno a dividere. Cinque. Quattro. Tre. Due. Robinson! Vogliamo solo vivere. Lasciaci vivere. Li faremo fuori. Uno dopo l'altro. No! Non chiudere il portello! Jude Law Black Sea Al cinema Al cinema Al cinema Al cinema Al cinema Grazie a tutti.